C'è l'amico di Zambrotta C'è l'amico di Zambrotta Ci è un amico di Zambrotta C'è un amico di Zambrotta Allora rimane solo La partita Rimane a essere il coffo Il San Brotta Adesso rimane a essere la partita Dio Alessandro Dio Alessandro non si sa sapete siamo ora andate mi raccordi e si torna a me oh i tempi non è bene se non mi chiami e se la tiro e questo la 100 metri la 100 metri qui vado che sto facendo Ed è bellissimo. Oh, eheh! Oh, le buone dallo! E' il suo male è il suo male! Non puoi fare il sbaldo, non puoi fare il sbaldo. E' il c'è da un mondo li puoi fare la propria tina. E' la... Vedete, ha come mi trova. La pure la... La pure la... La pure la... E' bagnato il calcio E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Stai a mangiare il filmato Olanda 3, Italia 6, non si può vedere tutto quanto No, si chiude Il frate non mi fa zonato Stai a mangiare il filmato Si è una faccina italiana E' visto la partita dell'Italia contro l'Olanda E' con i piaccini 3 e 0 E' un po' E' la faccia l'Italiana Freshità Frazzese 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 E' ce la faccio l'Ondese Es e l'Africo A fare la fascia l'Ondese Frazzese Che acc addsermio Abbiamo fatto Faccio vedere un tiposo po' l'acqua Faccio vedere un tiposo po' l'acqua Ho formato un tiposo po' l'acqua I pre-toschi scomodosschi nastri da un uomo Oax-la-ol-acqua I pre-toschi scomodosschi Ma guarda come quando il giro e e riuscito a essere 5 shot 5 6 che se la faccio a romano eh? se la faccio a sbaldo o sbaldo? o sbaldo pasticciere che è? a faccio uno portoghese a faccio uno portoghese a gioca la settimana di youtube fa se la faccio uno portoghese i pali hai un pollo ho un pollo non siamo pure paesi il testo è un pollo L'Italia non è entrata proprio in campo, sono stati praticamente 90 minuti di totale indifferenza proprio delle tattiche di Donatoni. Siamo stati sottomessi dall'Olanda con un gioco tumeggiano. L'Italia che stai dicendo a primo poche di preparazioni atletiche? Dove! 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 Dove!